Perchè facciamo guard bloccare? Per bloccare il corpo. Per avere l'opportunità di attaccare i bracci. Poi uscire dalle gambe e non essere soffocato con triangolo. Sì, devi liberare la testa con ogni prezzo, più veloce possibile. Diciamo che hai permesso questo movimento, hai sbagliato. Però non sbagli se sempre sarai con testa alta e schiacci con i bracci. Non rimani, non lascia i bracci ridrissati, tutte queste cose. Poi da Kimura puoi andare subito, attacchi Kimura non va a soffocamento. Attacchi Kimura, prendi, fai capriosi. Anche da su, controllo, testa, pali, bracci. Controllo buono, polso, tirato fuori. Eh sì, da su. Si, legati. Poi... Non ho fatto. Con un'idea di appoggiarsi. Questo hai sentito, è una cosa bella. Qual era? Controllo di gancio. Ultimo. Ma non lo ricordo o ultimo? No. Fammi un po' Non lo ricordo. Ultimo, qual era? Si, è una cosa in parallela. oggi siamo andati bene come ti è piaciuto l'allenamento adesso andiamo a brari totale invitiamo tutti приглашаем всех делать с нами тренировки mettiamo tutti affare il namenting